1580 Francis Drake torna a Playmood diventando il primo navigatore britannico a circunnavigare la terra. 1687 il consiglio comunale di Amsterdam vota per sostenere l'invasione dell'Inghilterra da parte di Guglielmo d'Orange. 1748 nasce a Newcastle a Pontine e viceammiraglio Caddler Collingwood noto come partner di Lord Nelson in molte delle vittorie britanniche delle guerre napoleoniche. 1861 il primo British Open Golf Championship inizia a Press Week. 1879 la prima carrozza ristorante ferroviaria al mondo viene introdotta in Gran Bretagna sulla linea tra Londra e Leeds. 1887 nasce Sir Barners-Wellis, scienziato, ingegnere e inventore della bomba ribalzante usata dalla Rafner Wright Dumbusters per attaccare le dighe della Valle d'Era Rur durante la Seconda Guerra Mondiale. 1915 muore James Keir Hardy, il primo parlamentare socialista britannico. 1934 il transatlantico Queen Mary viene varato a Clydebank in Scozia. 1938 nella prospettiva di una guerra con la Germania i civili britannici vengono fornite maschere antigas. 1953 finisce il razionamento dello zucchero in Gran Bretagna. 1973 il Concorde effettua la sua prima attraversata senza scalo dell'Atlantico a tempo di record volando a una velocità media di 954 miglia all'ora. 1984 la Gran Bretagna accetta di trasferire la piena sovranità di Hong Kong alla Cina nel 1997 ponendo fine a 150 anni di dominio britannico. 2011 il relitto della Gershoppa, una nave mercantile britannica affondata da un sottomarino tedesco nel 1941 viene trovato nell'Atlantico. Il relitto conteneva 200 tonnellate di argento per un valore di circa 150 milioni di sterline. Sissure la stracione di un valore di circa 20 milioni direnة. Sissure la stracione di una protezione genitiva del membro di protezione. Sissure la stracione di un valore di circa 150 milioni di ultime imprezziare la terra. Grazie a tutti.